buongiorno oggi celebriamo una memoria facoltativa nella liturgia ma di una persona molto cara al popolo di dio che vogliamo ricordare si tratta di papa giovanni ventitresimo il papa buono il papa che mandò un bacio ai bambini sotto la luce commovente della luna e il vangelo di luca capitolo 11 versetti dal 37 al 41 che ci aiuta a riflettere e a mettere nel nostro giorno da vivere il senso profondo anche del pontificato di giovanni ventitresimo che è stato particolarmente profetico dando inizio al concilio vaticano secondo di cui oggi facciamo anche memoria dell'apertura proprio perché ha significato una rivoluzione dentro la chiesa un inizio di un cambiamento di mentalità drastico che tutt'oggi ancora continua tra conquiste e ritorni indietro a volte per timore a volte per fatica e tuttavia una strada che giovanni ventitresimo ha aperto con la luce dello spirito santo e dalla quale non si può più retrocedere ecco che cosa è accaduto un po quello che dice gesù al fariseo che lo ha invitato a pranzo il quale si detiene osservare le regole esteriori le abruzioni da fare prima di mangiare e critica gesù che invece non si attiene a tutti questi dettagli non è proprio qui che il signore gli chiede di fare in fondo un salto di qualità usando parole dure chiama stolti i farisei che puliscono l'esterno del bicchiere del piatto mentre però l'interno del loro cuore pieno di avidità e di cattiverie e l'interno del piatto non è condiviso non è messo a disposizione dei poveri è una chiesa che fa questo salto di qualità quella sognata da giovanni ventitresimo il quale la vuole proprio vicina ai poveri per giovanni ventitresimo la condivisione del pane è espressione necessaria di un cuore autenticamente uguale a quello del signore gesù che è maestro e del quale siamo discepoli per giovanni ventitresimo si trattava di condividere il superfluo ma per superfluo e gli dice dobbiamo intendere ciò che sta super cioè sopra la tavola non si deve condividere ciò che verrebbe altrimenti buttato ma quello che mettiamo sulla tavola per il banchetto dei familiari e degli amici per giovanni ventitresimo il papa buono allora la chiesa si esprime nel suo cuore più autentico si traduce in azioni concrete di di fraternità di solidarietà di compassione e dal desiderio di essere discepola di cristo così ai farisei di ogni tempo il richiamo è forte e anche al nostro cuore che a volte si riempie di malvagità una una medicina importante per guarire condividere concretamente mettere a disposizione avvicinare l'altro perché sono i gesti della carità che aiutano a convertire il cuore buona giornata in una chiesa dei poveri e per i poveri